signore e signori buonasera il magic comic show di lorenzo marte guarda mamma sono un mago sta per cominciare vi preghiamo di prendere posto nel più breve tempo possibile vi ricordiamo inoltre che in questo spettacolo non è obbligatorio spegnere i vostri telefoni cellulari ma che nel caso fortuito doveste ricevere una telefonata proprio durante lo spettacolo lo spettatore verrà usato come cavia umana per provare il numero della donna segata in due anche se dovesse appartenere al genere maschile o a qualsiasi altro gender in cui si identificasse perché il teatro è trasversale e qui siamo davvero tutti uguali buona visione e buon divertimento grazie